Oggi vedremo la differenza tra plettro e unghie. Qual è la differenza? Allora, nelle unghie possiamo avere questo suono un po' più dolce. Col plettro, che ho qui, potete avere un suono più squillante, lo emulo come se avesse un plettro. Quindi la differenza tra unghie e plettro è semplicemente il tipo di suono. Con l'unghie è un po' più dolce, con il plettro è un po' molto più squillante.